Abbiamo preparato qualcosa di molto simile a Sofficini, una perfetta imitazione realizzata con il Messier Cuisine Connect, ma potete realizzarla anche facilmente con il Messier Cuisine Plus. Andiamo a vedere il procedimento e la ricetta con gli ingredienti per realizzarla. Gli ingredienti che ci occorrono per preparare i nostri Sofficini sono 250 g di latte, un cucchiaio di burro, un pizzico abbondante di sale e 250 g di farina. La prima cosa che facciamo è aprire il nostro boccale e mettere all'interno il latte, il burro e il sale, latte, quindi il cucchiaio di burro e un bel pizzico abbondante di sale e poi andremo ad impostare 5 minuti, 100 gradi, a velocità 1. Rimettiamo il nostro bucchio e andiamo con 5 minuti, velocità 1, 100 gradi e diamo il via. Nel momento in cui il nostro latte è arrivato a 100 gradi andiamo a mettere all'interno del boccale la farina e dopo aver messo la farina impostiamo 15 secondi a velocità 6. Il risultato è un impasto che andremo a mettere in una ciotola e a far freddare formando una palla. Quindi prendiamo il boccale e un po' con le mani e un po' con la spatola andiamo a mettere il contenuto nella nostra ciotola. Mi aiuto con le mani. È un po' caldo quindi fate attenzione. Con la spatola lo stacco dalle parecchie, vedete è morbido e abbastanza appiccicoso. Quando abbiamo staccato tutto l'impasto andiamo a compattarlo fino a formare una palla e lo lasciamo raffreddare perché poi lo dovremo stendere. La nostra palla è formata e lasciamo qui nella ciotola a freddarsi. Nel frattempo possiamo procedere a lavare il boccale, pulirlo anche se non lo lavate benissimo basta pulire e togliere la maggior parte dell'impasto che è rimasto attaccato e andiamo a mettere nel boccale, noi faremo questi sofficini ripieni di prosciutto cotto e formaggio, quindi andremo a mettere il prosciutto cotto e il formaggio nel boccale per triturarli. Quindi abbiamo lavato il nostro boccale e andiamo a mettere al suo interno 50 grammi di prosciutto cotto e 100 grammi di formaggio morbido che ho tagliato a dadini e andiamo ad impostare 10 secondi a velocità 5, vediamo se il livello di triturazione è a noi gradito. A mio avviso è perfetto per riempire i nostri sofficini, quindi lo togliamo dal boccale, mettiamo anche questo in una ciotola e procediamo con la stesura dei nostri sofficini, vi farò vedere come. Ho messo la mia palla di impasto su un piano di legno e mi sono aiutata con della farina per non farla attaccare sul piano e adesso con un mattarello andrò a stenderla nella maniera più sottile possibile. Per accelerare i tempi vi faccio vedere come procedo con solo una piccola parte dell'impasto, quindi la stendo in questa maniera, vedete è molto molto sottile la pasta stesa in maniera molto sottile perché altrimenti avremo dei sofficini un po' troppo consistenti. Poi vado a prendere un coppapasta e vado a ritagliare dei cerchi su questa pasta stesa. Quindi vi dicevo con il coppapasta vado a formare il cerchio che mi occorre per fare il mio sofficino, la pasta poi la tolgo e la rimpasto successivamente insieme all'altra e su questo sofficino, su questo cerchio scusate, vado a disporre il mio ripieno. Noi abbiamo detto abbiamo fatto prosciutto e formaggio ma voi potete fare prosciutto e sottiletta, prosciutto e mozzarella o anche semplicemente mozzarella e pomodoro. Quindi vado a mettere una parte dell'impasto quasi al centro del sofficino, non ne mettete troppo perché altrimenti può esplodere in cottura. Lo vado a richiudere così, a semicerchio, sigillo bene i bordi con le dita in modo che il ripieno non fuoriesca e dopodiché con una forchetta do anche un ulteriore sigillatura che dà anche un motivo carino al bordo del nostro sofficino. Il nostro primo sofficino è pronto, quando saranno tutti pronti li passeremo nell'uovo e successivamente nel panno attato e li andremo a friggere oppure a cuocere in forno. Ecco pronti i nostri sofficini, ne sono venuti circa 12 e se ovviamente volete farli più grandi ne verranno circa 7-8. Adesso procediamo alla panatura e successivamente alla frittura in padella oppure al passaggio in forno come preferite. Noi li faremo di questi 12, alcuni li andremo a congelare perché devo dirvi che sono ottimi anche congelati, panati e poi congelati, messi in forno oppure in padella vengono perfetti e alcuni come vi ho detto li congeleremo, altri li andremo a friggere. Ecco i nostri sofficini in frittura, ho usato due tipi di panature diverse di cui vi parlerò dopo a fine cottura, adesso li vado a togliere dalla padella e li vado a mettere su un piatto coperto di carta assorbente. Ecco pronti i nostri sofficini, adesso andiamo a vedere come è l'interno. Sono fritti benissimo, per uno ho utilizzato un semplice pangrattato, per l'altro ho utilizzato un pangrattato a grana più grossa e indicato per fritture. Vi faccio vedere l'interno con una forchetta, vedete? Sono molto simili a quelli comprati, una perfetta imitazione. Spero che la ricetta sia stata chiara e che vi sia piaciuta, vi invito comunque a seguirmi sul sito www.messiericette.it, ad iscrivervi al nostro gruppo facebook Messier Plus In Connect Plus Italia e ad iscrivervi al mio canale In Cucina con Monsieur. Buona cucina a tutti! Grazie a tutti!